Ciao a tutti ragazzi sono Vale03 e sto per reagire a un nuovo video di Cristiano70 Il video che ho fatto insieme a Cristiano70 sono tutti gli errori che abbiamo fatto Io e Cristiano70 nel registrare un video di Apex Legends In pratica noi stavamo registrando un video di Apex Legends Credevamo fosse un video normale ma non era un video normale Perché facevamo un sacco di errori, morivamo sempre E facevamo cazzate, dicevamo parolarci, insomma questo è E guardatevi il video Ok ragazzi aspettiamo un attimo Ecco qua ragazzi il primo cazzo di errore che diceva che non mi sentivate Invece si ragazzi si sentiva, ovviamente era un errore tecnico che diciamo lui registrava e non si sentiva Poi questa volta si è sentito, vabbè Che sta facendo, non sentite, non sentite però comunque stiamo facendo il video appunto Sta giocando con noi E vabbè fatemi un attimo a scegliere mettiamo lui Devi scendere tu, no intendo io e mi faccio Dobbiamo scendere ma tu sei già scendere, no ok Allora fammi, ma che, sto qua Dove vogliamo scendere, andiamo Andiamo ad artiglieria Sa qui, sa qui, mandiamo a noi, eccolo Come ho detto ragazzi, come ho detto moriamo sempre, facciamo sempre figure di merda Ah, non possiamo scappare Eh, puttana maiala, eh questa cosa qui, ragazzi, diciamo me l'ha detta già Christian U70 E però ovviamente non me la ricordavo bene Però sì, cantavo questa stupidaggine Non so perché ma dicevo Puttana maiala Cioè ma guarda che figura di merda, che figura di merda Poi suonava il telefono, suonava il telefono Ci spaccavano il culo, ci ammazzavano di brutto E ovviamente Christian U70 dice, dice questo Non possiamo fare i video così Poi questa cosa qui dell'iperspazio, ragazzi, mi venne in mente a me Che io credevo, ovviamente noi credevamo che non si sentiva, diciamo La, l'audio del party, invece si sentiva E abbiamo, diciamo, io ho voluto cantare questa cosa E adesso andiamo avanti con il video Eccolo, eccolo No vabbè ragazzi, aspettate Aspettate, sentite queste due madonne Madonna che schifo e porca madonna Oddio Ah no, porca madonna Porca madonna Deve ragazzi che segnavano, vabbè E quello si sapeva che facciamo solo figure di merda Ragazzi, solo figure di merda Ma sta bloccando Non si connessa più Si è rallentato tutto Sono dovuto uccidere dal gioco Porca dio No ragazzi, avete sentito cosa ho detto? Un attimo Ragazzi, aspettate Cosa ho detto? Porco dio in una maniera strana Porca dio Non partecipo a bianco Che scuro Vale, io ti sto invitando Come hai fatto prima? Oh no Sta scritto l'invito Non può essere usato Non può più essere usato Te lo giuro Guarda, guarda Ti faccio la foto Mi è arrivato solo uno Accettalo, accettalo Cioè raga Porca troia Vedete ragazzi Che figura di merda Che figura di merda Che facevamo Io e Chris c'è nel 70 Io che facevo solo figure di merda Chris c'è nel 70 Che rideva Perché io appunto Facevo solo figure di merda Facevo ridere E credevo pure Di non venire nel video Eh, sono venuto nel video Fatto una figura di merda E vabbè E non mi fa parte Guarda Non mi fa partecipare Ma me ne invi uno tu Un altro messaggio Mi invi uno tu Sì dio collo No raga Dio collo No a bestemmia Dio collo Fate sentire Aspetta raga Vabbiamo indietro Mi invi uno tu Sì dio collo E dove sto inviando Porco dio No raga Risentiamo questo porco dio E risentiamo pure la notifica No perché ragazzi Questo video è epico Cioè raga Dove cazzo sta Allora Ma quante bestemmia tiravo Eh aspettate Andiamo ancora un po' più indietro Perché ragazzi Importante Ok da qui dai Ok da qui dai Sentiamo eh Porco dio Bella eh Poi pure la notifica Ma scusa Ma scusa Io ti sto inviando Invito Inviato E da portando Eh vabbè Questa ragazzi La finale È proprio La cheat di Mosconi Portando alla madonna Cioè raga Finisce così il video E spero che vi sia piaciuta La mia reazione La prima volta Che vedo questo video Eh Lasciate like Condividete Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi anche al canale Di Cristiano70 Magari ve lo lascio in descrizione È bella Grazie Grazie